da oggi primo marzo entra in vigore su tutto il territorio nazionale la ricetta elettronica o dematerializzata dal nome sembra una diavoleria proveniente da un film di fantascienza anni 80 in realtà questa nuova forma di ricetta che coinvolge cittadini medici di famiglia e farmacie è partita con un decreto tre anni fa sulla digitalizzazione per garantire la tracciabilità delle prescrizioni la ricetta elettronica anche lo scopo di abolire quasi totalmente il supporto cartaceo ma in realtà in questa prima fase non sparirà del tutto in quanto è pur vero che farmacisti e medici sono informatizzati ma in caso di malfunzionamento del sistema o assenza di linea attraverso un promemoria bianco dato al paziente si potrà comunque recuperare la prescrizione in farmacia ma questa nuova ricetta quali implicazioni pratiche comporta in questa fase quando sarà a regime e cioè sembra nel 2017 il paziente non avrà più la ricetta dallo studio medico ma noi medici faremo una ricetta elettronica che il paziente andrà in farmacia con la tessera sanitaria e il farmacista potrà dispensare la ricetta prescritta ecco in realtà che cosa cambia poi per il paziente tradotto in soldoni ma si è fatto un gran chiasso però di fatto ancora cambia poco diciamo che noi potremmo ancora prescrivere su ricetta rossa perlomeno gran parte dei farmaci stamperemo questi pro memoria quindi alla fine il paziente viene da noi o c'è la ricetta rosso c'è la ricetta bianca non cambia granché diciamo l'unica vera novità è questa che il paziente che si reca da noi e che abita in un'altra città italiana fino fino all'altro ieri doveva andare dal medico della regione pagare un ticket e poi il medico gli faceva la ricetta e lui andava in farmacia questo adesso non dovrebbe più succedere ma la ricetta rossa quella che conosciamo tutti va definitivamente in pensione o rimane ancora in vigore la ricetta rossa ancora rimane in vigore perché ci sono delle diciamo rimane in vigore soprattutto per la diagnostica per la prescrizione delle analisi per la richiesta di visite specialistiche e poi anche per alcune tipologie di farmaci